Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web. Musica, attio con la top 5 di Roberto, di Roberto De Angelis. Vieni Roberto, raggiungici. Buonasera Roberto, buonasera Paolo. E buonasera a questo prodigio della musica. Come hanno votato le radio. Allora, come hanno votato, c'è stato veramente un mixaggio da nord a sud dell'Italia. Questa volta abbiamo avuto 119 canali web radio, che è una piccola gioia. e cominciamo a vedere dalla posizione numero 5. Posizione numero 5 per, guarda un po', Alessia Iannacone come una zingara. Ringraziamento artisti nostri amici, a Maurizio Duminì, a Federico De Angelis, Sara, naturalmente Sara Rosaria, e noi andiamo avanti con la posizione numero 4. Guardate un po', Alicia canta Cristina Heidi. E prima di andare avanti, i bambini e le donne sono stati i protagonisti di questa classifica. Poi scoprirai il perché. I bambini, l'abbiamo scoperto adesso, andiamo avanti, naturalmente, 22 centesimi di secondo. Andiamo con la postazione numero 3. Armonium, bambina mia, Evergreen. Bene, secondo posto. Secondo posto, saliamo, comincia a fare caldo. Non è mandato via al caldo. Gianni Grudico, fichi fichi, l'estate regna sovrana. Ci prepariamo, primo posto. Ci prepariamo e le donne sono protagoniste. Dai, oh! Vince, top 5, farsi per l'Italia musica. Stefania Cento, non è mai stato l'ore. Bene, allora io vorrei ringraziare un applauso fortissimo la nostra strepitosa, unica mega regia. Grazie, Luciano Morelli e tutti i ragazzi, sempre un lavoro eccezionale di qualità e di professionalità e di grande amore. Le due isole per gli abiti, gli architetti geniali della moda, naturalmente, per abiti e accessori. Vincenzo Alberto Antonio, Maria Puli, dimensione donna per trucco parrucco. La nostra truccatrice anche di studio, Ilvia, bellissima. Marco, allora, Marco Ciriace, nuovo direttore, nuovo teatro. Marco Ciriace, nuovo di Velletri, senti, è arrivata un'iscrizione, stanno arrivando una palanga di iscrizioni sul nostro sito di Universal Beauty Competition. Però ne è arrivata una strana, ora non so, è Alfonsina Lombardi. Ah, potrebbe essere... Io con la parrucca. Io non volevo dirlo, però è arrivata, ti giuro. Quindi non vorrei che lui soffre di questa cosa e vuole partecipare del foro. Può darsi, però tu intanto hai le tue splendide ragazze. Ha preso tutto. Ioan Chacon, eccolo qui, guarda che per lui, lui sempre dietro, non viene mai da... No, ho chiesto, ha preso tutto. Allora, tanti appuntamenti per il teatro nuovo di Velletri. Con la tua direzione attività. Carro Calabresa, avremo il 7 dicembre Teo Mammucari. Insomma, tutta una grande stagione. Da seguire, da seguire. Grazie a tutti per aversi fatto entrare nelle vostre case. Ci vediamo la prossima settimana, stessa ora, stessa rete, sempre a ritmo di che. Forza la musica! Ciao! Valerio Liboni, sigla, Donna Felicità! RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci! Sei in ascolto di RDA Radio 1, Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web.